Era offside la posizione di Di Michele, ecco il calcio di punizione che è toccato dalla veneziana per Caligiuri ancora in favore dell'estremo difensore Brindisino. Il pallone va nella zona di tomba, in area di rigore, poi arriva Silvestri, va al tiro Silvestri ed è gol, gol di Silvestri, Brindisi 1, Monopoli 0, è il quarto d'ora, il Brindisi va in vantaggio. Di prima intenzione, poi c'è un pallone che schizza sulla destra per Primizio, riesce ad evitare l'attacco di Argentieri, effetto è il cross, deve arretrare Di Michele ancora l'azione per il Monopoli. Gli ha proposto un certo cross e il gol, il gol su Mischia, gol su Mischia da parte di Deto, battuto, riesce a svettare Caligiuri e il tiro è in gol e il Monopoli raddoppi.